Sabato 31 marzo 2018, buongiorno. Ben trovati all'appuntamento consueto con la nostra rassegna stampa, rassegna stampa della Vigilia di Pasqua che come sempre si apre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo con le quattro edizioni del centro, partiamo da quella di Pescara. Il titolo principale riguarda un importante accordo, un protocollo firmato tra Comune e Ferrovie dello Stato per l'utilizzo degli spazi rimasti vuoti all'interno della stazione centrale di Pescara. La stazione, vedete il titolo, nuovi negozi ed uffici. E poi a centropagina il rito del venerdì santo Pescara in migliaia. Ieri i fedeli che hanno seguito la processione che ha attraversato le vie centrali del capoluogo adriatico per poi concludersi all'interno della cattedrale di San Cetteo. Ma quella di ieri è stata una giornata tra il sacro e il profano passando dai riti del venerdì santo alle vicende calcistiche del Pescara. Quella di ieri è stata una giornata importante per la società Bianca Azzurra. C'è stata una riunione nel pomeriggio per fare il punto dopo la sconfitta con il Brescia. Nella serata di giovedì Pescara cerca un allenatore per il dopo Epifani. Ormai è praticamente certo che Massimo Epifani non guiderà il Pescara nella gara di Palermo. Pescara che cerca l'allenatore e fa ripuntati nelle ultime ore su Cristian Brocchi, ex tecnico del Milan, ma anche del Brescia. L'ultima squadra affrontata dai Bianca Azzurri. Ne sapremo di più nelle prossime ore, ma ovviamente bisognerà fare in fretta perché il campionato tornerà sabato prossimo con i Bianca Azzurri attesi dalla difficilissima trasferta di Palermo. A tal proposito, più avanti nell'ultima parte di mattino 6 vedremo l'intervista che abbiamo realizzato ieri pomeriggio, proprio al termine di questa riunione che si è tenuta in società a Pescara con il presidente del Delfino Daniele Sebastiani. Vediamo gli altri titoli. Ancora Pescara, auto prese in leasing, scoperta truffa milionaria. E poi ancora Pescara, donna muore a 58 anni, organi inviati in quattro regioni. Andiamo nella parte alta della pagina perché in alcune città della nostra regione è già campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative. Vedete Teramo, Silvi e altri 29 comuni d'Abruzzo al voto il prossimo 10 giugno. E poi domani l'impatto anche in Abruzzo. C'è l'allarme per il satellite che è precipita. E poi la crisi grazie alle aziende alimentari ed agricole che stanno risentendo evidentemente meno della crisi nel nostro paese, soprattutto in questo caso nella nostra regione. Siamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo. I giovani, le tabaccherie storiche, Teramo, i vecchi esercenti lasciano, subentrano ragazzi alla prima occupazione. Poi vedete anche ovviamente sulle altre edizioni del centro si parla della processione del venerdì santo in Emiliaia anche ieri a quella che si è tenuta a termo. Vedete nella foto proprio un'immagine della processione di ieri e in primo piano c'è anche il vescovo, inquadrato il vescovo della diocesi di Teramo Atri, Monsignor Leuzzi. Vediamo le altre notizie, il calcio anche che riguarda la Serie C perché in campo oggi vigilia di Pasqua le formazioni proprio della terza serie nazionale per il Teramo scontro diretto nella Tana del Gubbio. Vediamo anche gli altri titoli, sempre a Teramo, anziani derubati in casa da falsi addetti alle caldaie. E poi un altro titolo, Roseto degli Abruzzi, tassa di soggiorno al via ma le regole sono confuse, tassa di soggiorno che scatterà da domani proprio giorno di Pasqua. E poi nella parte bassa della pagina Pasqua e Pasquetta nei musei, grandi mostre con aperture straordinarie e ingressi gratuiti nei musei abruzzesi in Abruzzo. Ma anche nel resto d'Italia, come da tradizione nel giorno di Pasqua, ci sarà la possibilità di visitare i musei gratuitamente. Siamo all'edizione di Chieti, Lanciano Vasto del centro, in questo caso il titolo principale riguarda la cronaca. Assalto in banca, cassiere ferito, Vasto in due con maschere e taglierini, rapinano la filiale e fuggono in auto. E poi a Chieti l'appuntamento più atteso del venerdì santo, vedete la foto, 30 mila in strada per la processione che ha attraversato il centro del capoluogo Teatino. Noi restiamo a Chieti, comune inchiesta interna sul buco da 12 milioni. E poi la cronaca, sempre a Chieti coltellate durante la cena, scattano tre denunce. E poi l'occupazione e il lavoro, parliamo del futuro, della Oniwell, autobus elettrici russi per quanto riguarda proprio l'azienda di Atessa. Andiamo a vedere anche la prima pagina di L'Aquila, Vezzano e Sulmona del centro. Si parla di politica amministrativa, in questo caso comune. Comune, ad un passo dal ribaltone, L'Aquila, il riconteggio dei voti premia il centro-sinistra, ma si attende l'ufficialità del Tar. E poi, a proposito di comuni, andiamo ad Avezzano, giunta a Sessori a tempo per placare i ribelli. E poi, tornando all'Aquila, si parla di tasse, Artigiano sviene davanti alla Maxi Cartella. E poi dall'Aquila ci spostiamo a Sulmona, le lotterie sono illegittime, sequestrati i premi. Andiamo avanti, vediamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, dopo aver visto insieme le prime pagine del centro. Si parla, in questo caso, di Pasqua, il turismo rialza la testa, antiche tradizioni e nuove formule di divertimento attraggono gente. Grazie alla fine della crisi, agenzie di viaggio piene, tornano le vacanze sul Mar Rosso. Bene, la regione, l'Aquila, arranca. Dunque, con l'arrivo della Pasqua, il turismo, anche nella nostra regione, segna numeri positivi. E poi, vediamo altre notizie. Bimba morta, il racket nel mirino. C'è un faro acceso dei carabinieri di Pescara sulla morte della bimba nigeriana, ricoverata il mese scorso al Gaslini di Genova. E poi andiamo a centro pagina, ritroviamo la notizia della rapina alla banca BPR di Vasto, picchiato il cassiere, vedete il titolo. E poi si parla di amministrative, una tornata importante per il voto nella nostra regione. Si tornerà al voto a giugno per 31 sindaci, possibile ballottaggio solo a Teramo e Silvi. Tra gli altri comuni c'è pagati Pianella, Loreto Prutino. A Teramo e Silvi ci sarà eventualmente il ballottaggio, perché parliamo di comuni con oltre 15 mila residenti. Il calcio, ma non solo, ma anche il basket nella parte alta della pagina, perché ci sono importanti richiami di sport, notizie che poi ritroveremo all'interno del giornale. Serie B, Epifani in partenza, Sebastiani sceglie Nesta, come leggiamo qui dal messaggero. C'è anche Brocchi in Lizza per allenare il Pescara. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Basket Serie A2, Sharks Roseto la lotta per i play-out, stasera passa per la gara di Ferrara. E poi la Serie C, la Serie C di calcio. Teramo oggi a Gubbio con Ricci, il portiere last minute acquistato proprio ieri, tesserato proprio ieri dalla società Biancorossa. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano La Città. Vinceremo con il modello Di Maio, l'onorevole, il neonorevole del Movimento 5 Stelle, Berardini rompe gli indugi. Martedì la presentazione del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Teramo, Rocchetti. E poi Campli, città, no tax. Vedete questa notizia con corredo di foto. Tre anni senza tributi per chi prende la residenza. E poi Danuntis, mi candido alla Regione per tutta la Val Vibrata. C'è l'intervista all'interno del giornale. E poi partita golf tra le buche di Roseto, la provocazione di Fratelli d'Italia per le strade dissestate. In basso il campionato di Serie C con il Teramo nella vigilia di Pasqua in campo. Al Barbetti di Gubbio, gara importante per i Biancorossi che hanno la possibilità di avvicinare ancora la salvezza. Abbiamo visto dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Possiamo andare a vedere le prime pagine invece dei giornali nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Sangue sulla marcia a Gaza. Vedete il titolo principale. Scontri al confine. Uccisi 16 palestinesi. Israele. Miliziani di Hamas. Tra i civili. E poi in alto si parla di post voto nel nostro paese. Movimento 5 Stelle. Il 58% vuole l'intesa con la Lega. Nessun leader per ora avrà l'incarico dal Presidente della Repubblica. E siamo al quotidiano. La Repubblica Gaza. La strage della marcia. Vedete il titolo a tutta pagina. Uccisi 16 manifestanti palestinesi. Oltre 1.400 feriti. Israele. Attentatori confusi tra la folla. Oggi nuova protesta. Si devono settimane di scontri. L'ONU cerca di fermare il massacro. E poi la grande pace TV. Mediaset Sky va in onda. La pace TV accordo sui programmi e sui canali tra i due colossi televisivi. E siamo al fatto quotidiano. Prima intervista. Almeno per quanto riguarda il fatto quotidiano al neopresidente della Camera FICO. Ora nuove regole contro i Volta Gabbana e le indennità. E poi il quotidiano La Stampa. Vedete il titolo di apertura anche in questo caso. Gaza. 30.000 marciano contro Israele. Hamas spinge i civili a violare i confini. Guerriglia con i soldati. 15 morti. E poi la politica. Vedete il titolo di spalla. PD Mossanti-Renzi. Governo con il Movimento 5 Stelle. Ma senza Di Maio. Dunque grandi trattative per la formazione di un governo nel nostro paese. Poi in basso patto commerciale per evitare l'offensiva francese di Vivendi. Sky Mediaset blindano la TV. Vediamo anche il Tempo di Roma. Due notizie e due titoli di apertura. Il primo che riguarda la politica. Il totogoverno dei sondaggi. Dice Lega. Movimento 5 Stelle. E poi l'altro titolo con corredo di Fodo. Poveri Cristi e Pasqua. E pensiamo a coccolare i migrati ed islamici. Scrive Il Tempo. Non una parola. Sui 215 milioni di cristiani che per la fede rischiano la vita. Siamo al prima pagina del messaggero nazionale. Mediaset Sky. La pace cambia. La TV storico accordo tra Berlusconi e Mardoc. Le produzioni delle Biscione gratis ai clienti del satellite. Sul digitale terrestre. Gomorra e The Young Pop. Nell'intesa la possibilità di cedere premium. E poi vedete. Orrore a Gaza. Guerriglia al confine. Vedete questa foto. Sassi sui soldati. Uccisi. 15. Palestinesi. E poi una notizia che riguarda la politica. Un mese per il governo. Vitalizi. Il piano tagli. Non più di 70 milioni. Siamo a Libero. Mezzo PD fa cri cri e si offre a Grillo. Orlando è uscito allo scoperto. Della stessa idea. Anche Emiliano. Boccia. E Veltroni. E poi un altro titolo. Vedete. Dai Salvini. Molla Di Maio. E sia finita. Matteo vediamo se chiacchiera e basta. Movimento 5 Stelle insiste. Luigi Premier. O niente. Dunque ovviamente grande fermento tra i leader. Soprattutto dei partiti che hanno vinto le elezioni. Si parla tanto di questo possibile accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Ma ci sono. Lo avete visto anche da questi titoli. Molte voci contrarie. Il mattino di Napoli. Il patto che cambia la televisione. Storico accordo. Mediaset Sky. Premium sul satellite. La TV di Marduk. Sul digitale. Terrestre. E poi. Vedete il titolo con la foto più in basso. Sommossa palestinese sul confine della Striscia. L'esercito italiano spara 15 morti e 1.200 feriti. E poi il nuovo piano di De Luca. Siamo in Campania. 50.000 assunzioni. Il governatore della Campania rilancia la sfida per il lavoro dei giovani nella pubblica amministrazione. Siamo al quotidiano della conferenza episcopale italiana. Avvenire. Vergogna e speranza per rinascere con Cristo la Via Crucis del Papa. Per i mali della Chiesa e la medicina del perdono. Per risorgere. E battaglia a Gaza. Strage di palestinesi. Scontri per la marcia del ritorno voluta da Massa al confine di Israele. L'esercito israeliano spara in risposta al lanci di pietre. 15 morti e 1.000 feriti. Vediamo anche il quotidiano La Verità. Nasce il governo Pro Sbancati. Scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi vedete questa foto, questo articolo, anche un po' questo titolo simpatico. Il centrodestra trova pure il suo nuovo dudù. E poi più in basso, fermato un altro jadaista. Però gli islamici italiani non riescono a condannare. Vediamo anche il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che parla di tematiche, soprattutto di carattere economico e finanziario. Infatti il titolo di apertura riguarda le pensioni. Sempre più pensioni nei redditi degli italiani. E segni medi su del 31,6%. E stipendi solo dell'8,1%. Sole 24 Ore è l'ultimo quotidiano che abbiamo preso in esame per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale. Ora siamo ai quotidiani nuovamente, ai quotidiani abruzzesi. Ripartiamo dal centro. La cronaca regionale ad Atri. La meraviglia d'Abruzzo. In mostra, vedete, c'è At, la moneta che stregò anche la Germania. Pesa 350 grammi ed è esposta al teatro comunale. Il numismatico d'Andrea è il simbolo, dice, della ricchezza. E poi, chi e quando torna al voto? L'abbiamo visto prima. Elezioni comunali. Il 10 giugno, alle urne, 31 città e paesi. Tra queste le più importanti sono Teramo e Silvi. E poi il sindacato. Si parla di sindacato perché Giuseppe De Angelis è stato rieletto segretario della Will Funzione Pubblica. Siamo alle cronache dalle province. Partiamo da Pescara, la città che cambia nuovi negozi e uffici dentro la stazione. Accordo tra Comune, Rete, Ferrovie Italia e Centro Stazioni per l'utilizzo degli spazi vuoti e per dare il via al progetto del parco centrale. Dunque cambierà volto la stazione di Pescara, ma cambieranno volto anche le zone attorno alla stazione centrale e soprattutto l'area di risulta. Se ne è parlato ieri a Palazzo di Città dove c'è stata questa firma importante di questo patto tra Rete, Ferrovie Italia e Comune di Pescara. È stato firmato questo protocollo alla presenza del sindaco, del capoluogo adriatico Marco Alessandrini e dei vertici di Rete, Ferrovie Italia. Allora possiamo andare a vedere il servizio. Intermodalità è la parola d'ordine con la quale Ferrovie Italiane e Comune di Pescara hanno firmato la convenzione che avvia il progetto di riqualificazione della stazione di Pescara centrale nell'ambito del disegno complessivo di realizzazione del parco centrale cittadino che prevede parcheggi e anche un tunnel sotterraneo per il passaggio dei mezzi su gomma direttamente collegato ai binari ferroviari. Un hub, insomma, previsto nel piano della mobilità sostenibile del Comune di Pescara. Il concetto è che l'operazione di riqualificazione dell'area ex di Risulta, noi piace chiamarla parco centrale, passa anche attraverso una valorizzazione dell'immobile della stazione che è uno spazio enorme, grandissimo, frutto del gigantismo degli anni Ottanta e oggi c'è questa necessità, da un lato favorire l'intermodalità e poi c'è il tema dell'uso degli spazi lì presenti, spazi che sono destinati a servizi primari ma anche a servizi secondari come in molte stazioni italiane a servizio dei viaggiatori ma con la possibilità comunque di destinare una quota di questi spazi anche alla luce delle previsioni urbanistiche di settore all'uso pubblico. Questo naturalmente è subordinato all'avvio dei lavori dell'area di Risulta. L'amministrazione adriatica insieme a Ferrovie punta, come detto, a rendere vitale il gigante oggi abbandonato, cioè l'edificio della stazione centrale, anche per combattere criminalità e degrado. Giulio Del Vasto, direttore compartimentale di RFI, ha annunciato che proprio oggi sono partiti i lavori di rinnovo delle cinque scale mobili all'interno della stazione ma tutti gli spazi vuoti e inutilizzati che oggi offre la stazione pensata negli anni Ottanta sono di difficile gestione. Secondo l'amministratore delegato di Cento Stazioni, Sara Venturoni, che nel cognome tradisce le sue origini terramane, il progetto può far tornare la stazione al centro della vita cittadina. Con risorsi a disposizione, lato rete ferrovia italiana, sulla riqualifica degli spazi e sullo sviluppo dell'accessibilità e dei servizi interni alla stazione, lato comune sulla rigenerazione dell'area di Risulta, con la realizzazione di un parco urbano che non ha precedenti in Italia, anche dal punto di vista delle dimensioni per la città di Pescara, rimettendo a posto tutti i servizi di intermodalità e privilegiando la qualità dello spazio urbano destinata alla pedonalità, alla ciclabilità, quindi rendendola un effettivo spazio a servizio della collettività. L'intermodalità invece su gomma, e questa è una scelta che riscontriamo nelle linee strategiche del piano urbano e della mobilità sostenibile del comune di Pescara, dimostra che l'amministrazione intende rivitalizzare la città anche puntando su delle forme di mobilità che sono delle forme di mobilità moderne. C'è anche chi mostra contrarietà a questi progetti di riqualificazione, è il caso di Italia Nostra, vedete l'articolo in grigio a centro pagina, Italia Nostra boccia le idee del comune per la riqualificazione dell'area di Risulta nella foto. c'è il presidente dell'associazione Domenico Valente. Andiamo avanti, sempre a Pescara in alto, vedete il titolo, si parla di viabilità, via Davolos chiusa fino al 6 aprile, la strada ha ceduto per un problema alla condotta, Blasioli vice sindaco dice l'ACA è già al lavoro. Tra bocchi da spostare, intesa con i concessionari, riunione in regione per verificare l'iter amministrativo per il nuovo porto, i titolari dovranno spostare le strutture a spese proprie in cambio di luce e servizi. Proseguiamo, Neri un compleanno senza colpevoli, parliamo dell'omicidio di Alessandro Neri, il giovane ucciso avrebbe festeggiato proprio oggi, 29 anni, proseguono le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Pescara. Malore dopo lo sciopero della fame, la protesta del detenuto inchiuso in carcere perché non ci sono braccialetti domiciliari, ha avuto un malore questo detenuto, è stato portato in ospedale per accertamenti. Ancora cronaca, auto in leasing, scoperta truffa milionaria, indagini della mobile nei guai un 47enne di Chieti ed un molisano si sarebbero appropriati di mezzi per 600 mila euro. E poi controlli dei carabinieri, carenze igieniche nel bar, attività sospesa. E poi a centropagina, donna muore a 58 anni, donati gli organi, il prelievo è venuto all'ospedale, reni, polmone, cuore e fegato sono stati inviati in quattro regioni. Regioni, e poi lutto nella parrocchia Regina della Pace di Pescara, addio a donna Ermete Palombo, domani si terranno i funerali del sacerdote che a dicembre prossimo avrebbe compiuto 90 anni. Cambiando argomento, due mercatini sulla riviera per il weekend di Pasqua in città. Dunque c'è questa iniziativa voluta dall'amministrazione comunale, dall'assessore al commercio Giacomo Cuzzi. Siamo ancora a Pescara, ancora a Pescara, no del Tarra la pista per bici che taglia le aziende in due, accolti ricorsi di Sogett Trasporti e Vamar contro il comune, annullato parte del piano particolareggiato di Fontanelle. Andiamo ancora a vedere un'altra pagina, quella che riguarda i riti del Venerdì Santo, in questo caso a Pescara, migliaia in strada per la processione del Cristo morto, grande partecipazione al corteo guidato dall'Arcivescovo Valentinetti, tanti bambini e rappresentanti di associazioni e volontari. Vedete le foto della presenza notevole di persone ieri alla processione del Venerdì Santo. Siamo in basso, la parte bassa della pagina, Rigo Piano, le fiction saranno due, oltre al progetto del regista Valsecchi uscirà un altro film tratto dal libro dei coniugi Parete. E poi, Scarta porta la tragica valanga sul palcoscenico del spazio Matta di Pescara. Il 5 aprile ci sarà questa rappresentazione con ingresso libero al Matta di Pescara. Siamo alla pagina di Montesilvano, l'inaugurazione, orti sociali, primi lotti ad anziani disoccupati. Siamo dunque a leggere la notizia di questa iniziativa voluta dall'amministrazione comunale. E poi, polemica, auto sulle vie Roma e Mazzini, si alza lo scontro politico sempre a Montesilvano. Il consigliere Orsini difende la scelta di riaprire al traffico le strade del centro per favorire una ripresa delle attività commerciali. A Mare Montesilvano, via alle iscrizioni, vedete in basso, c'è tempo fino al 10 aprile per partecipare al concorso di poesia, pittura e foto, con due sezioni speciali. Siamo alla pagina sempre della provincia di Pescara, in alto, città Sant'Angelo, immigrati, la minoranza, chiede lo Sprar. E poi a centro pagina, pianella, scuola, Ceratina vince la battaglia davanti al Tar, raccolto il ricorso dei genitori, che si erano visti chiudere la sezione staccata della frazione con il trasferimento degli alunni nella sede centrale. E a Montesilvano, la Coppa del Mondo di Pickleball, sport molto in voga, soprattutto negli Stati Uniti. In basso, stasera la preghiera per Gesù, canti e raduni dei testimoni di Geova in tutte le sale del Regno del Pescarese. Proseguiamo, siamo ancora alla pagina dell'area metropolitana di Pescara, in questo caso siamo a Francavilla al Mare, erosione SOS di Padovano, in arrivo 500 mila euro, vedete il titolo in alto, appello del presidente della Sibabruzzo per cercare di far fronte alla crisi, litorali danneggiati dalle mareggiate, la Regione finanzia i primi interventi. Spoltore, luci sul convento per la giornata dell'autismo, in basso ad Abbateggio, ecotrail nella Valle Giumentina, 200 atleti attesi oggi per il secondo trofeo dei borghi più belli d'Italia. E poi, un'altra notizia per parlare in questo caso di solidarietà a San Giovanni Teatino, staffetta della solidarietà per l'Agbe, l'associazione che si occupa dei genitori, dell'assistenza dei genitori, dei bambini emopatici. Siamo alla pagina della Val Pescara, dell'area Vestina, partiamo da Manoppello, semafori trappola, alla consulta dei consumatori, ipotesi di ricorso collettivo contro le sanzioni dei rilevatori di velocità, Manoppello, Montesilvano e all'aeroporto Penne, strade in dissesto, in arrivo 1 milione e 400 mila euro per fare i lavori. Ancora Penne, la sede della scuola Giardini, si decida con un referendum, lo chiede l'esponente di liberi e uguali, Rossi, Luca Rossi, in basso Penne, migliaia alla storica processione del venerdì santo. Nella città Vestina, siamo alla pagina di Chieti del Centro Amministrazione in Rosso, inchiesta interna sui conti del Comune, arrivata in Consiglio, la richiesta del Movimento 5 Stelle, una commissione di indagine sul buco da 12 milioni e 700 mila euro. Giovedì, il voto decisivo, Tari, si approvano le tariffe, in aula gli sconti per le famiglie e poi assunzioni, in municipio sempre a Chieti, contratti firmati, il posto fisso diventa realtà per nove precari. E poi risanata la società Ops, stop agli esuberi, l'azienda pubblica per la verifica delle caldaie, Marinucci, conti in ordine, dopo tre anni di tagli. Siamo alla pagina di Vasto, la cronaca in primo piano, ritroviamo la notizia di apertura proprio dell'edizione di Chieti del Centro, picchiano il cassiere, rapinano la banca, in due con maschere e taglierini, assaltano la filiale della BPR, immobilizzano un cliente e colpiscono in testa il dipendente. E poi in basso, bus elettrici al posto della Oni, o è la tessa visita di una multinazionale russa pronta a riassumere il 30% degli operai. Poi la cronaca, tornando a Chieti, coltellate durante la cena, ora scattano tre denunce. Siamo alla pagina della provincia di Chieti, auto contro il recinto, schianto sulla Marrucina, protestano le contrade Cucullo, San Martino e Alboreto. Dopo l'ennesimo scontro, il comune di Ortona chiede alla provincia provvedimenti urgenti per la sicurezza. Tollo e lite sull'autovelox, il sindaco Radica dice è utile. E poi in basso, San Vito Chietino, Tari stangata su fritterie e bed and breakfast fossacesi, a cani randaggi lungo le strade, il sindaco chiede collaborazione. Siamo alla pagina di Teramo del Centro, il commercio che cambia in città. Vedete questo titolo in apertura. Nuovi gestori per le tabaccherie storiche del centro di Teramo lasciano per anzianità tre titolari, subentrano giovani sostenuti dalle famiglie e la crisi ha reso più appetibili le licenze. E poi parliamo dell'omicidio della pittrice di origine Teatina Rapposelli verso l'udienza al riesame. la difesa non sono databili le ricerche online di Simone Santoleri dicono i suoi avvocati difensori. In basso invece parlando di politica il PD stringe i tempi e convoca gli alleati riunirà siamo a Teramo il tavolo politico la prossima settimana per assemblare la coalizione e decidere sulle primarie. Seconda pagina di Teramo per quanto riguarda il centro la cronaca in alto botte minacce di morte alla madre finisce in carcere 38enne di San Nicolò e poi a centro pagina si spacciano per caldaisti e derubano due anziani in casa sempre a Teramo e poi la provincia sistema le strade con i fondi del Masterplan per far passare il Giro d'Italia la strada provinciale 19 a Miano e la Rigopiano Castelli dunque lavori in queste importanti arterie in vista proprio di una tappa tutta abruzzese del Giro d'Italia di ciclismo Teramo casa di riposo Pasqua senza salari i sindacati accusano la cooperativa Filadelfia che precisa noi abbiamo pagato siamo ancora un'altra pagina della provincia di Teramo in questo caso in alto siamo a Pineto Torrecerrano il varco d'ingresso ancora nel degrado e poi ad Atri italiani sinergia con il PD per poter battere ferretti elezioni amministrativa di Atri l'ex assessore della giunta di centrodestra guidata da Stolfi spiega la strategia dell'alleanza civica il nodo del candidato sindaco Pineto altre critiche all'aumento della tassa sui rifiuti nella cittadina adriatica siamo alla pagina dell'Aquila del centro elezioni comunali ribaltone più vicino terminato infatti il riconteggio disposto dal TAR dopo il ricorso il centro sinistra recupera 42 voti uno in più di quelli necessari entro il 4 aprile il funzionario della prefettura che ha curato le operazioni rimetterà una relazione ai giudici del TAR per un'udienza già fissata il 9 maggio in vista della sentenza Avezzano Cascere propone il daspo ai migranti irregolari e poi all'Aquila picchia la moglie cacciato da casa provvedimento del giudice in basso a Sulmona blindata la madonna che scappa in piazza varchi d'ingresso contapersone misure antiterrorismo per l'importante evento clou di Pasqua che vedrà arrivare nella città Peligna tanti turisti anche da fuori regione tasse caos artigiano sviene di fronte alla maxi cartella all'Aquila e poi sempre l'Aquila sarà istituita la figura del garante dei detenuti Ienca i cartelloni non saranno rimossi ok dal consiglio e bocciatura per l'assessore di Cosimo approvato il bilancio di previsione in basso iniziativa della CNA dell'Aquila uova di Pasqua ai pazienti di pediatria siamo alle pagine dello sport ma dobbiamo attendere prima di parlare di sport soprattutto di calcio di Pescara e Teramo ora invece ci fermiamo per qualche attimo poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di Mattino 6 di nuovo in studio seconda parte di Mattino 6 avevamo visto insieme esaurito le pagine interne del quotidiano il centro siamo al messaggero l'inserto Abruzzo pagina 2 si parla dei riti della Santa Pasqua Pasqua tra storia e divertimento c'è solo la scelta Madonna che corre che scappa che vola tra i fedeli ovunque piste innevate dopo la riapertura anche delle fontari di Campo Imperatore dunque Abruzzo che offrirà tante opportunità ai turisti che sceglieranno di passare il weekend pasquale nella nostra regione siamo a Pescara sosta a pagamento anche di notte lasciare l'auto 24 ore sull'area di risulta costerebbe 9 euro nel quadrilatero 2 euro di giorno euro in fascia notturna svelate strade e tariffe per tenere in piedi il piano finanziario per la riqualificazione con Parco parcheggi Silos Termina Bus una stazione più bella con il Parco Centrale è stato firmato ieri un protocollo d'intesa tra Comune di Pescara e Rete Ferrovie Italia abbiamo visto prima il servizio riaprire Corso Vittorio un errore che non considera il bene comune lo dice il presidente dell'Automobile Club di Pescara che boccia la decisione pericoli e caos che faranno male a commercio e turismo dice il presidente dell'Automobile Club di Pescara Giampiero Sartorelli in questa lettera in questo intervento scritto per il messaggero carte false per leasing ed export clandestino la maxi truffa delle auto sequestrata a Perugia la società Schermo denunciati un ecchietino ed un molisano il caso scoperto dalla squadra mobile di Pescara e poi da Pescara la corte del Barcellona il sogno blaugrana dei baby calciatori che vedete nella foto in alto e poi rissa prima del delitto sconto per Ciarelli il caso che riguarda l'omicidio rigante a Pescara proseguiamo bimba morta il racket nel mirino indagini dei carabinieri sul pestaggio subito a giugno dalla mamma nigeriana e poi venerdì santo Pescara si ferma per la processione poi in basso il regalo dei finanzieri ai bimbi dell'Agbe di Pescara proseguiamo siamo alla pagina dell'Aquila sempre dell'inserto Abruzzo del messaggero Anatra Zoppa più vicina deciderà il Tar il prossimo 9 maggio grazie alla verifica dei voti ad Arischia il centro-sinistra sarebbe avanti per un voto il tribunale amministrativo dovrà valutare complessivamente 160 schede e poi dalla sanità ai trasporti le spine dell'entroterra i sindacati fanno il punto dell'avvertenza così l'entroterra perde servizi e lavoro cronaca botte a moglie e figlia allontanato da casa e poi invece il bilancio parlando di cronaca amministrativa e comunale il bilancio passa a maggioranza si salva la pubblicità abbiamo visto la prima pagina dell'Aquila del messaggero ora vediamo la seconda processione l'emozione dei fedeli i due vice prefetti Rinaldo Pezzoli e Giovanni Todini hanno portato a spalla il Cristo morto sfilando tra due ali di folla in religioso silenzio all'Aquila vedete le foto della processione del venerdì santo e poi tornano a volare i viaggi meta preferita all'Egitto abbiamo visto come riparte l'economia almeno in un certo senso nella nostra regione si torna a viaggiare a Miterrum i parchi via l'orario continuato e poi il tacquino dell'arte ma guarda chi si rivede in città l'arte contemporanea in mostra siamo la pagina della Marsica e dell'area Peligna partiamo da Avezzano Palazzo Torlonia Sindaco da D'Alfonso sul comando della Polizia Municipale battaglia a tutto campo il fronte si sposta anche in regione ma intanto di Pangrazio i suoi scrivono non ancora più la maggioranza ma sarà costretto a cambiare ancora Marsica Gioia De Marsi Cava sequestrata due denunce Roccaraso messa tra i militari per il vescovo della diocesi di Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco Sulmona Madonna che scappa massimo in 10.000 per motivi anche di sicurezza e poi Giadaista in Marsica processione blindata tornando a Sulmona bloccati i premi in natura delle lotterie ad Avezzano l'accusa l'ex di violenze Summit in Tribunale siamo alla pagina di Chieti del messaggero in 20.000 la processione che commuove l'intera città e poi tentato omicidio per 50 euro tre denunciati nel corso delle indagini in basso il comune stabilizza i precari ora c'è il contratto siamo alla pagina della provincia di Chieti vasto rapina la BPR ferito un cassiere Lanciano tari più leggera per chi produce tariffa confermata per le famiglie migrante eroe sventa il furto e mette in fuga due ladri a colpi di karate è accaduto a schiavi d'Abruzzo in basso Ortona autorità portuale Coletti impugna il suo sonero vasto sfiora il jackpot e vince solo si fa per dire 40.000 euro centrato il 5 al superenalotto alla tabaccheria di Fiorenza Delisio il 6 valeva ben 120 milioni arriva infine a Fossacesia Artingian Gusto il lungo ponte di Pasqua siamo alla pagina di Teramo del messaggero Campi niente imuettari contro lo spopolamento il sindaco stoppa la tassa per tre anni a chi vorrà prendere qui la residenza e poi corso i led ironia social ma Brucchi non ci sta siamo a Teramo e poi il commissario Pizzi approva il bilancio sempre a Teramo previsione dei prossimi tre anni velocità boom di controlli a Pasqua da parte delle forze dell'ordine a Pineto vende la Mercedes sul web ma l'assegno è cabriolet siamo alla pagina della provincia in particolare a Giulianova Santoleri la verità dalle lenzuola mercoledì saranno passati al setaccio da come leggiamo in questo articolo del messaggero anche Federe Cuscini la difesa ancora non si sa come sia morta dice Renata Rapposeli gli avvocati parlano di procedimento chiaramente indiziario padre e figlio sono accusati di omicidio e di aver nascosto il corpo Tari braccio di ferro tra comuni albirgatori a Giulianova 16 milioni in fumo limiti illegittimi per il Consiglio di Stato potrebbero azzerare l'incasso del tributo e poi Giulianova anche gli animali d'affezione avranno il loro lido al mare in basso alba adriatica perché non c'è la spiaggia per fido i gestori degli hotel uniti contro i diviedi a Tortoreto il caro istinto ora si trova sul sito web siamo arrivati alle pagine dello sport del messaggero ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano la città ripartiamo dalla cronaca regionale sisma interpellanza sulle tasse da restituire Quagliariello Bagnai e Pagano tutti i parlamentari eletti con il centrodestra contestano la procedura di infrazione europea sul terremoto dell'Aquila a proposito del terremoto dell'Aquila vi dobbiamo una notizia di questa notte come leggiamo da un dispaccio dell'ANSA delle 4.53 di questa mattina perché una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 3.18 della scorsa notte con epicentro a 7 km ad est dell'Aquila ed ipocentro a 20 km di profondità lo si apprende dalle rilevazioni dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione ma non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose una replica di magnitudo 2 è seguita 12 minuti dopo la prima scossa fortunatamente non ci sono stati danni problemi a persone e cose ma è tornata la paura questa notte all'Aquila con questa scossa di terremoto di 3.9 che è stata chiaramente avvertita dalla popolazione torniamo al quotidiano la città cronaca regionale vasto cassiere ferito durante la rapina alla banca BPR in basso all'Aquila si fa più concreto il rischio di anatrazoppa il centro-sinistra recupera 42 voti dopo l'ultimo riconteggio della prefettura proseguiamo Teramo la desolata sfila in una città ancora ferita la processione notturna lungo il corso ma le chiese inagibili a causa del terremoto sono ancora tante cronaca San Nicolò già i domiciliari per uno scippo picchiava l'anziana madre arrestato e poi in basso settimana di consapevolezza con Abruzzo per l'autismo lunedì l'iniziativa del lancio dei palloncini blu simbolo della giornata mondiale la marea gialla Berardini vinceremo con il modello di Maio il parlamentare 5 stelle pronto a presentare sindaco e programma sostenuti da una squadra di tecnici e poi in basso verso il voto la provincia si batte per le quote rosa in regione il PD siamo ancora alla politica convoca il tavolo per le primarie bacchetta Renzo sul caso d'amico basta alibi e temporeggiamenti scelta del candidato entro metà aprile con chi vuole starci compreso Cavallari d'Alberto invece non sembra affatto interessato comuni al voto il 10 giugno ballottaggio il 24 decise le date delle amministrative in alcuni comuni della nostra regione ancora Teramo approvato il bilancio della resa dei conti il commissario salva i servizi ma bisognerà pagare mezzo milione di euro per l'anticipazione di cassa il comune incasserà una tantum di 5 milioni e mezzo di euro dalla polizza assicurativa sui danni del terremoto chiuso il cantiere Lumaca di Corso San Giorgio in centro a Teramo due anni e mezzo per realizzare metà dell'intervento di restyling nel progetto erano conteggiati 245 giorni Largo San Matteo c'è a chi non dispiace la copertura effetto inox e poi strade rimesse a nuovo per il Giro d'Italia questa è una notizia importante che riguarda soprattutto la provincia di Teramo la Corsa Rosa porta lavori lungo la provinciale di Miano nel tratto che collega Rigopiano a Castelli e dunque collega le due province di Pescara e Teramo dopo due mesi nomine Ater comunque inefficaci siamo a Teramo il consigliere regionale Bracco ribadisce i problemi creati dall'inconferibilità dell'assessore Misticoni dice il consigliere regionale e poi istituzioni il comandante interregionale dell'arma visita la prefettura di Teramo il generale di Corpo d'Armata Vittorio Tommasone è stato ricevuto dal prefetto di Teramo Graziella Patrizzi vedete anche la foto proseguiamo siamo a pagina 12 dalla Sicilia attacco frontale a Balturo il sindacato sul denuncia problemi tra azienda e personale e la stampa asservita da come leggiamo in questo titolo poi migranti siamo sempre a Teramo progetto Sprar alla cooperativa Tre Fontane in basso l'iniziativa Conosci te stesso con Fidapa e Genius Loci due incontri dedicati alla personalità nell'aula magna del liceo delfico di Teramo Pasqua senza stipendi alla De Benedictis i sindacati chiamano in causa l'Asp 1 e la politica regionale annunciando una primavera di lotta e poi parliamo di sociale perché a Pasquetta nel carcere di Castronio a Teramo ci sarà la visita dell'esponente del partito radicale Rita Bernardini che vedete in una foto d'archivio con lo storico rappresentante radicale Marco Pannella scomparso nei mesi scorsi andiamo ancora avanti per arrivare a un'altra pagina del quotidiano La Città in questo caso si parla della pagina della provincia zero tasse per tre anni a chi va a vivere a Campli iniziativa dell'amministrazione comunale contro lo spopolamento l'opposizione ribatte spot elettorale Celino Attanasio resta senza telefono per la neve ma riceve lo stesso le bollette pensionato vince una battaglia contro la telecom politica De Annuntis lancia la sfida per la regione primo cittadino di Corropoli c'è bisogno di una squadra che difenda i cittadini di tutta Val Vibrata Paolo Camaioni dal bilancio nuovi debiti per i cittadini di Martinsicuro proseguiamo andiamo in basso al Badriatica è stato pubblicato il bando per l'ala della scuola per il secondo lotto dei lavori saranno investiti un milione e quattrocento mila euro siamo a Giulianova sequestrati beni auto per una maxitruffa Giuliese di 47 anni finisce nei guai nell'inchiesta della procura di Perugia su una società di Umbertide siamo ancora a Giulianova e Degrado due passi dalla stazione residenti di via Machiavelli e via D'Azeglio chiedono l'intervento comunale ancora a Giulianova l'11 aprile scade il bando per realizzare vedete questo titolo la nuova caserma e poi in basso turismo la Bibac si riaffaccia sulle spiagge Giuliesi siamo alla pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi partiamo da Silvi il calcio in crisi pagherà salato anche l'uso dello stadio comunale di Silvi e poi partita golf tra le buche delle strade siamo a Roseto fratelli d'Italia Roseto lasciata dicono gli esponenti del partito di centrodestra in uno stato di abbandono e incuria totale in basso Pineto il sociale non sbandiera solo per fini elettorali l'assessore Mariani risponde alle critiche di impegno e sviluppo sul centro diurno ancora pagina della provincia di Teramo siamo a Roseto Petrini il gladiatore delle manutenzioni l'assessore Rosetano chiede più fondi e più dipendenti per la cura del territorio Pineto compra l'auto con l'assegno falso condannato ancora Pineto cantiere sul vomano fermo amministrazione allo sbando e poi in basso tornando a Roseto degli Abruzzi la commissione bloccata dall'amministrazione i componenti della minoranza critici per la mancata convocazione siamo arrivati alla pagina che riguarda lo sport lo sport in questo caso che vuole parlare del Teramo Teramo diavolo il treno salvezza ferma al Barbetti vigilia di Pasqua oggi con l'impegno che può valere una stagione alle 14.30 il Teramo sarà in campo a Gubbio e poi in basso tre allenatori per una stagione complessa ecco il Gubbio di Sandreani prima Cornacchini poi Pagliari la terza gestione tecnica in un campionato che vedrà gli Umbri lottare fino alla fine una partita importante per i biancorossi oggi al Barbetti di Gubbio andiamo a vedere anche prima di tornare a parlare di sport in chiave regionale le prime pagine dei tre quotidiani sportivi partiamo dalla Gazzetta dello Sport resto è il raddoppio l'Inter e la ricarica Spalletti l'anno prossimo ancora qui e poi questa sera la grande sfida dello Juventus Stadium tra Juve e Milan prendi l'uovo e scatta Iguain per lo Scudetto Bonucci per la Champion e Corriere dello Sport la grande volata riecco il campionato Scudetto Champion ed Europa League via a una corsa pazzesca e poi un richiamo che riguarda il ciclismo domani ci sarà il Giro delle Fiandre Nibali curioso dice di vivere il mito di questa importante gara infine tutto sport Ringhia Allegri alle 20.45 Juve Milan in alto Toro non mi fido più Mazzarri Duro con i suoi in un periodo di campionato non facile e poi una notizia importante perché è scomparso il tecnico Emiliano Mondonico e oggi ha rivolta d'Adda il suo paese ci saranno i funerali dell'ex tecnico tra l'altro di Atalanta Cremonese Torino e Fiorentina e in Serie A prima dell'inizio di tutte le partite verrà osservato un minuto di silenzio possiamo andare a vedere le pagine dello sport regionali partiamo dal centro Sebastiani Epifani è stato sfortunato il presidente parla dopo la riunione di ieri per esaminare la crisi tecnica del Pescara Zeman non considero ha detto il presidente del Pescara l'eventualità di un suo ritorno e poi in basso Cesena KO Maniero lancia il Novara ieri due posticipi Novara Cesena 1 a 0 Perugia Cremonese 1 a 0 questi i due risultati dei due posticipi soprattutto Novara Cesena è stato un risultato che non è andato benissimo al Pescara perché i piemontesi hanno superato in classifica proprio la formazione Bianca Azzurra il Cesena resta fermo a 34 punti la società sfoglia la Margherita è stato proposto Brocchi di Stellone e De Biasi spunta l'ex milanista reduce dall'esperienza con Capello in Cina nello Yangsu ma bisognerà attendere ancora per sapere chi sarà il nuovo allenatore del Pescara il terzo tecnico della stagione dopo Zeman ed Epifani perché ormai è chiaro che Epifani verrà sollevato nelle prossime ore dall'incarico siamo alla pagina che riguarda la Serie C il Teramo a Gubbio Palladini guai a giocare per il pari voglio la vittoria vediamo la probabile formazione del Teramo 3-4-3 con calore in porta Caidi Speranza Emilillo in difesa Ventola Graziano De Grazia e Varas centrocampo Bacio Terracino Gondò e San Domenico in attacco vediamo anche le partite in programma oggi Fano Albinoleffe Feralpisalo Bassano Gubbio Gubbio Teramo Padova Pordenone Reggiano Sud Tirol Renate Mestre San Benedetto Seravenna Vicenza Sant'Arcangelo in basso si parla di Serie D Di Curzio che è il giocatore che ha realizzato il gol vittoria della gara con il campo basso Lavezzano può vincere i playoff l'attaccante Biancoverde tornato al gol come vi dicevo contro i molisani dopo un anno dice è stata una liberazione e poi il basket Roseto a Ferrara per centrare un altro expo questa sera le 20 e 30 ci sarà l'importante partita di Roseto in terra emiliana coach di Paolo Antonio recupera contento loro tirano bene guai a fermarci adesso andiamo a vedere anche un'altra pagina di sport del centro Zebredragons sfida tra grande rugby e promozione turistica l'organizzazione al lavoro anche per gli eventi collaterali sarà una festa per gli abruzzesi venditti e Raffaele questa manifestazione questa partita di rugby che si terrà all'Aquila il 14 aprile la vezzanese Caroli conquista il tricolore di sci e noi andiamo a vedere per chiudere le pagine dello sport del messaggero Epifani in partenza arriva Nesta così scrive il messaggero per la salvezza mancano almeno 9-10 punti ma come vi dicevo ieri c'è stata questa riunione in società Pescara per fare il punto della situazione dopo la sconfitta di Brescia abbiamo intercettato l'uscita di questa riunione il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che andiamo ad ascoltare sicuramente avevamo sulla panchina un allenatore bravo non è che tenavamo l'ultima ruota del carro però è chiaro che se un allenatore convocato non si presenta anche per rispetto dei giocatori di chi invece si è presentato mi sembrava il minimo che una società potesse fare se no vuol dire diventiamo il pallo della cuccagna non è possibile quindi su quello non si torna indietro ma noi in questo momento siccome stiamo valutando delle cose nostre in questo momento in questo momento particolare l'allenatore è l'ultimo dei problemi di rischiare di scommettere ancora su profili per carità magari preparati come Brocchi e Nesta però con poca esperienza ma io ve l'ho già detto in altre circostanze sono allenatori con molta più esperienza che sono subentrati in corsa anche in questo campionato ci stanno facendo malissimo o quelli che magari erano considerati ultimi della classe ci stanno facendo benissimo per cui non è che esperienza non è esperienza ci vuole un po' di tutto e qualcosa faremo non significa toglieremo il tecnico quindi qualcosa faremo saranno delle decisioni della società quindi si va avanti con Epifani potrebbe anche andare avanti Epifani come potrebbe magari la società prendere qualche altra decisione anche dal punto di vista dei giocatori dal punto di vista dell'allenatore stesso ieri però no no se dovessimo arrivare a una decisione la prendiamo in maniera tale che a rientro si possa ricominciare a lavorare già con la decisione presa se non dovessimo prendere la decisione vuol dire si va avanti così queste le parole del presidente del pescara Daniele Sebastiani dopo la riunione di ieri non ci sono decisioni ufficiali ma la giornata di oggi potrebbe portarne parliamo dell'aquila tagliate le utenze ai giocatori l'incredibile situazione di un gruppo eroico alle prese con tanti problemi societari vediamo un'altra pagina di sport del messaggero incontro futuro Real incontro sindaco Verna Cotola si parla del Real Giulianova si parla del futuro della formazione Giuliese ormai ad un passo dal meritato meritatissimo ritorno in Serie D e poi la Serie C il Teramo a Gubbio si gioca la salvezza il portiere Matteo Ricci e l'acquisto last minute subito in panchina Palladini ci servirà la partita perfetta in questo spareggio e poi il basket Sharks a Ferrara dell'ex Moreno con assenze pesanti e poi Pescara Futsal si allena a Pasqua e Pasquetta dunque niente sosta niente riposo per i giocatori in vista dei prossimi appuntamenti del Pescara calcio a 5 noi siamo giunti al termine dunque dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 l'ultimo appuntamento della settimana oggi vigilia di Pasqua io ringrazio voi per averci seguito ringrazio Maurizio Dagui in regia vi rinnovo l'appuntamento come sempre alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale oggi vigilia di Pasqua ovviamente da parte della nostra redazione anche l'augurio di una serena Pasqua a tutti buona giornata grazie a tutti Grazie per la visione!